salve a tutti i ragazzi eccoci ad una nuova recensione su una nuova ristampa di un manga abbastanza adattato e che è appena uscito per la jpop per quanto riguarda la osamushi collection stiamo parlando del manga di blackjack del dio dei manga osamu tezua diciamo che il sia il manga in sé per sé che l'autore non credo abbia proprio bisogno di presentazioni erano anni in realtà che aspettavo una riedizione per poterla prendere perché non avevo preso all'epoca quella della hazard e finalmente oggi è uscito il primo volume come grandezza vi dico subito che praticamente quasi identica a quella della full metal alchemist con le ultimate deluxe edition della della panini leggermente leggermente più bassa ma è leggermente leggermente più stretta e però sembrerebbe essere un po un po più doppio però bene o male la bustina che utilizzerò già ho visto è la bonelli e la bonelli book che è 176 x 227 mm quindi anche per il full metal alchemist che nel video non avevo ancora trovato la bustina adatta possiamo utilizzare la stessa bustina adesso andiamo a vedere appunto l'edizione come possiamo vedere qui in alto c'è appunto il simbolo dell'osamushi collection l'ha scritto osamu tezuka blackjack in bianco con il numero 1 giusto c'è un bel bel disegno la copertina è laminata niente male al tatto qui sulla costina leggiamo ancora osamu tezuka blackjack sembra osamushi collection e dietro un po un po di storia poi in basso possiamo dire il marchio della j pop e la decidura volume 1 di 15 a euro 12 quindi lo stesso prezzo del full metal alchemist andiamo a vedere ora senza la sopra coperta ovviamente già che ci troviamo vediamo che le linguette all'interno sempre osamushi collection in cui con la storia esamo tezuka 1928 1989 più nota autore eccetera eccetera questa è poi la copertina in sé per sé con questo sfondo grigio con questo disegno della della barca che praticamente si vede sotto trama sul retro della della sovracoperta sul lato niente di di che e dietro praticamente solo il marco j pop e marco osamushi collection sfogliando ho visto che non sono presenti pagine a colori qui inizia con blackjack numero uno il sommario e qui inizia inizia la storia come si vede il tratto di tezuka io lo chiamo tezuka ma si dice tezuka al tratto ovviamente un po datato non ovviamente devi devi piacere il manga il manga datato la carta non è male però la sento comunque abbastanza porosa sembrerebbe che incontro luce incontro luce comunque un po si vede dietro però è abbastanza spessa non male devo dire la verità non male come dicevo già nel video di di full metal alchemist ovviamente a me questo tipo di formato non è che piace tanto però non però mi sembra che come c'è alla fine lo sento anche bass e lo sento più pesante di full metal alchemist però è anche abbastanza maneggevole quindi non dovrebbe essere troppo complicato troppo complicato sfogliarlo appunto leggere la rilegatura mi sembra fatta bene quindi quindi niente niente da dire cioè forse la carta un pochettino però è comunque è comunque spessa e devo dire la verità quindi credo credo che non che non ci sono problemi quindi che che dirvi ragazzi alla fine sono più di di 300 di 300 pagine a 12 euro certo certo per 15 numeri la spesa la spesa finale sarà abbastanza abbastanza elevata i ragazzi in conclusione ovviamente sia l'autore che che la storia non ha non ha bisogno di presentazione io credo che sia un'opera da tenere un'opera da tenere in collezione ovviamente però se uno non è propriamente affezionato al tratto vecchio può far sorcere un po' il naso a me sinceramente piace mi piace pure come hanno la copertina semplice senza fronzoli veramente veramente bello veramente niente male ho voglia di recuperare altri altri volumi di tezuka vorrei recuperare i tre adolf io la principessa di zaffirio ce l'ho quindi qualche altro titolo la fenice questi qua secondo me in libreria dovrebbero dovrebbero stare poi o vabbè ognuno ha i suoi gusti io nel frattempo vi ho presentato la l'edizione che vi ripeto niente male saranno 15 numeri a 12 euro ciascuno ciao